con a milcare silva il mister di capo verde un bel regalo anche per il compleanno oggi una partita dominata dal primo all'ultimo minuto è vero vero grazie grazie a tutti quanti i miei giocatori infatti che noi abbiamo pure avuto alcune occasioni in più ma il calcio è questo quindi in primis lo dico un grazie ragazze per un bel regalo che mi hanno fatto dei 50 anni e quindi sono contento speriamo che da oggi un mese festeggiamo è l'ultimo speriamo è vero che il bangladesh ha avuto tante difficoltà in questa partita ma se voi giocate così tutte le partite dove potete arrivare in questo mundialido noi ci proviamo arrivare fino al fondo anno scorso siamo stato sconfitto nel finale e stiamo lavorando giorno per giorno per arrivare alla fine secondo lei rispetto allo scorso anno cosa può avere in più questa squadra e questo quest'anno abbiamo alcuni ragazzi giovani quindi siamo ancora tutta in fase del lavoro dobbiamo lavorare sodio per arrivare al fondo grazie mille mister in bocca al lupo crepa al lupo grazie